Musica Venerdì 19, sabato 20 agosto, tutta la città dei ragazzi di Caltagirone vivrà due giornate di festa in occasione dell'inaugurazione del campo sportivo, risistemato, reso a norma. Per l'occasione, dopo il saluto del Vescovo e del sindaco di Caltagirone, saranno graditi ospiti della città dei ragazzi Filippo della Valle, in rappresentanza della Fiorentina Calcio, David Simone Vinci, cabarettista del programma televisivo Insieme, il gruppo musicale degli Ecosound e la scuola di ballo Ideal Dance. In queste due giornate interverranno rappresentanti del mondo del volontariato, che con le loro contaminazioni ci inviteranno a contaminarci per costruire una nuova visione del volontariato, non più da intendersi come un settore, ma come un modo di vivere, di concepire il mondo e la società, uno stile di vita che può fornire prospettive, idee e pratiche per superare la crisi del nostro tempo con modelli nuovi e diversi. Don Vinicio Albanesi, direttore della città dei ragazzi e presidente nazionale della comunità di Capodarco. Venerdì e sabato prossimo facciamo un ulteriore passaggio di ripristino della città dei ragazzi. C'è un grande campionato, diciamo così, dei ragazzi che abbiamo chiamato i coraggiosi, perché sono ragazzini che nessuna squadra sceglierà, che però hanno diritto a giocare, a farsi valere, ad essere partecipati e partecipativi al gioco e quindi la città dei ragazzi sta riprendendo e riprende con grande entusiasmo. Ringraziamo ancora la conferenza episcopale italiana che ci ha permesso di realizzare tutto questo. Non è ancora finito e l'inaugurazione ufficiale penso che si possa fare agli inizi di ottobre, anche se non ancora abbiamo fissato la data. Questo è il ricordo di Don Luigi Sturzo, di tutta la città e di tutte le persone oggi adulte che sono venute a giocare qui in questo campo che rivede di nuovo una luce nuova. L'evento che abbiamo pensato di organizzare in occasione dell'inaugurazione del campo della città dei ragazzi si svolgerà su due giornate. Venerdì 19 di agosto che vedrà la partecipazione della scuola di ballo Ideal Dance del maestro Puzzo che aglieterà tutti i partecipanti con le loro esibizioni. Il giorno successivo, il sabato, ci sarà l'esibizione di una band parrocchiale, gli Ecosound, che anche loro aglieteranno tutti i partecipanti con la loro musica. Durante la serata di giorno 20, tra una canzone e l'altra del gruppo Ecosound, ci sarà anche la partecipazione del noto cabarettista David Simone Vinci, noto cabarettista di Insieme, persona molto sensibile, che verrà qui alla città dei ragazzi a fare il suo spettacolo a titolo gratuito perché anche lui ha sposato in toto il nuovo progetto della città dei ragazzi. Per questo motivo lo ringraziamo enormemente. Una particolarità che noi abbiamo pensato di mettere in queste due giornate sono delle interviste che noi faremo a delle associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio. Abbiamo pensato di fare ciò per il semplice fatto di raccontare delle cose positive. Noi ci rendiamo conto che le cose vanno male perché il più delle volte vengono messe in luce solamente i lati negativi. Invece noi in questa occasione vogliamo far emergere il positivo che c'è in questa nostra città. e parteciperanno delle associazioni di volontariato come l'Associazione Astra, la cooperativa sociale San Giovanni Bosco, ci sarà l'Avis, i Poni della Solidarietà, parteciperà anche l'associazione Il Ciclamino, la cooperativa Il Ciclamino, ci sarà anche l'Azione Cattolica, tutti presenti con un loro gazebo che durante la serata ciascuno di noi potrà avvicinarsi per vedere un po' quali sono le attività che svolgono e cosa concretamente ciascuno di noi può fare avvicinandosi a questa realtà. Quindi per questo motivo noi vi aspettiamo numerosi e saremo ben lieti di accogliervi. Il prossimo 20 agosto si aprono i festeggiamenti dedicati a Santa Agrippina, padrona di Mineo. Siamo in compagnia del Presidente del Comitato dei Festeggiamenti, Antonio Gambuzza. La festa di Santa Agrippina è il momento più bello per ogni menenino, il culmine dell'anno dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, perché la festa di Santa Agrippina è un connubio, un equilibrio, una sintesi tra fede, folklore e tradizione. Ricordandovi quattro dati importanti, il 20, il 21, il 27 e il 28, quindi sono i due weekend perché Santa Agrippina esce due volte. Esce la prima domenica che è la prima sera, così denominata per il giro esterno, che una volta svolgeva per toccare tutti quelli che erano i conventi esterni alle mura della città. Adesso ovviamente non ci sono più, ma rimane il giro e verrà effettuato domenica 20 e domenica 21. Mentre domenica 28, l'ottava, il giorno solenne con il giro interno per toccare tutte quelle che sono le altre parrocchie di Mineo. Ma andando per ordine inizieremo appunto, come anticipava Padre Santo, con l'apertura dei festeggiamenti. E quest'anno, anno di duplice grazia per quanto riguarda il bicentenario della diocesi e ancora prima il giubileo della misericordia indetto da Papa Francesco, abbiamo pensato di invitare due figure eminenti. Ad aprire i festeggiamenti appunto verrà il Cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, il quale appunto arriverà in Piazza Buglio, ci sarà una processione, una stazio e una processione verso la chiesa di Santa Agrippina, dove appunto passando dalla porta, dalla porta centrale, si potranno lucrare le indulgenze alle solite condizioni imposte dalla chiesa, quindi la confessione e la partecipazione ai sacramenti. Il Cardinale appunto aprirà questa porta entrando e poi verrà aperta la cappella di Santa Agrippina, così inizieranno i solenni festeggiamenti con la Sacra Messa. Alla fine dei festeggiamenti si tornerà in piazza perché daremo seguito all'aspetto folkloristico, apriremo i festeggiamenti con la spettacolare accensione delle luminarie che avete visto in Piazza Buglio, ancora spende perché siamo in fase di installazione e di prove, e appunto li accenderemo sabato 20 verso le 22 circa e praticamente anche quest'anno, oltre all'accensione delle luminarie, avremo la proiezione di un videomapping su Santa Agrippina, intitolato Santa Agrippina storia di devozione, qualcosa che non vi sveliamo perché lasciamo un attimo la suspense, però sarà bello perché non sarà un classico videomapping proiettato su facciate architettoniche, su monumenti, ma sulle stesse luminarie tramite un supporto innovativo che stiamo elaborando. Poi la domenica 20, come vi dicevo, abbiamo, e la domenica 21, mi correggo, il giro esterno di Santa Agrippina alle 18 con una spettacolare uscita con volantini di carta, spari pirotecnici, e all'evento abbiamo la messa molto molto partecipata in Piazza Buglio, che celebrerà il nostro parroco. Per quanto riguarda invece sabato 27 abbiamo il tradizionale pellegrinaggio dei nudi, cioè questi uomini che ripercorrono ciò che successe, ciò che accadde nel 1693, il terremoto che colpì tutta la Val di Notte e quindi anche Mineo, quando scapparono dalle case di notte, invocando Santa Agrippina, la protezione da parte di Santa Agrippina, e si ripete, diciamo, questo gesto. Sono circa 400 uomini a piedi scalzi con le fasce rosse. Poi alla fine del pellegrinaggio dei nudi abbiamo il pellegrinaggio cittadino con le reliquie di Santa Agrippina. Per concludere poi tutti i solenni festeggiamenti arriviamo a domenica 28, quando la mattina avremo a chiusare i festeggiamenti il Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, che celebrerà la solenne messa pontificale. Ma prima avremo un momento particolare al quale parteciperà lo stesso Vescovo, parteciperà il Sindaco, le autorità civili e militari, ed è l'omaggio del grano alla patrona. Questo omaggio del grano avviene perché si ricorda quando la festa di Santa Agrippina veniva fatta nel corso dei secoli. Alle 11 ci sarà quindi il solenne pontificale e poi la sera alle 8 in sostanza avremo l'uscita trionfale di Santa Agrippina per l'ottava, per il giro interno, anche esso un'uscita speciale perché oserei dire più speciale della prima, perché in quel momento non sappiamo spiegarcelo, ma tutti i menenini brillano gli occhi. Amiamo a dire così, ed è la realtà dei fatti, non vogliamo fare una semplice pubblicità, ma raccontiamo un'emozione che viviamo tutti, perché sin dall'inizio, sin quando esce Santa Agrippina, quasi tutti i bambini di Mineo vengono spogliati alla Santa, in segno di devozione. Quindi è un momento davvero toccante, dove vengono offerti per avere protezione. E da lì in poi è tutto un tributio di persone che seguono Santa Agrippina sino alla fine, quando poi, passando dalla parrocchia di San Pietro, di Santa Maria Maggiore, ci sarà tutta questa partecipazione e poi si concluderà il tutto verso mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico della premietta ditta D'Amblo. A partire da venerdì 19, per tutto il mese di agosto, fino a domenica 18 settembre, si terrà il pellegrinaggio delle varie comunità parrucchiali presso il santuario del Santissimo Crocifisso del Soccorso. Fino a martedì 30 agosto, nel cortile dell'ex educandato San Luigi, si svolgerà l'edizione 2016 di Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all'aperto a cura del multisala Politeama col patrocinio del comune di Caltagirone. Sta riscuotendo apprezzamenti l'itinerario Jacopeo nelle collezioni dei musei civici Luigi Sturzo di Caltagirone. La mostra, che promossa dai musei civici, ideata e curata da Domenico Amoroso, sarà visitabile fino a domenica 4 settembre nell'ex carcere borbonico. Giovedì 8 settembre alle ore 18.30 presso la Cattedrale di Caltagirone si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Vittorio Mondello, arcivescovo emerito di Reggio Calabria, in onore di Maria Santissima Bambina, a seguire processione della bambinella dalla Cattedrale fino alla Chiesa di Sant'Anna. Nell'ambito della ricorrenza del bicentenario della Diocesi di Caltagirone, venerdì 9 settembre alle ore 17.00 presso la Basilica Cattedrale si terrà l'incontro la Diocesi Calatina e la sua fondazione, contesto storico ed ecclesiale. Ad aprire l'incontro sarà Sua Eccellenza Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, insieme a Don Francesco Brancato, vicario episcopale per la cultura. Introduzione di Don Fabio Raimondi, direttore del Museo Diocesano di Caltagirone, e Francesco Failla, direttore della Biblioteca Pio XI. Interverranno Giuseppe Barone, dell'Università degli Studi di Catania, e Gaetano Zito, studio teologico San Paolo di Catania. In occasione del bicentenario della Diocesi, i prossimi appuntamenti di settembre saranno giovedì 8 settembre alle 18.30 in Cattedrale, la solenne celebrazione pontificale presieduta da Monsignor Vittorio Mondello, che è stato per 8 anni tredicesimo vescovo di questa chiesa, prima di essere promosso alla sede arcivescovile di Reggio Calabria Bova, di cui adesso è emerito. Venerdì 9 settembre, sempre alle 18.30, sarà Monsignor Michele Pennisi, figlio di questa chiesa e arcivescovo di Monreale, a celebrare una solenne messa pontificale. Sabato 10, Monsignor Vincenzo Manzella, quattordicesimo nella cronologia dei vescovi di Caltagirone, presiderà l'Eucaristia, sempre in Cattedrale, alle ore 20, anche per condividere il 25esimo anniversario della sua consacrazione episcopale, avvenuta il 19 giugno 1991, con questa comunità diocesana, che ha amato e governato per 19 anni, prima di essere trasferito alla sede di Cefalù. Domenica 11, le 17, nel piazzale del Giardino Pubblico di Caltagirone, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dalla sua eminenza il signor Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo del Vescovi, insieme a tutti i vescovi di Sicilia, a conclusione della giornata regionale delle famiglie, che già dalla mattina vedrà le famiglie, provenienti da tutte le diocesi siciliane, protagonisti di momenti di catechesi, di testimonianze e di festa nelle parrocchie di Caltagirone. La giornata regionale delle famiglie, promossa dalla Cesi e ospitata nella nostra diocesi in occasione del bicentenario, è un evento particolarmente significativo, in un tempo segnato da emergenze spirituali e problematicità culturali molto diffuse, proprio attorno ai temi della famiglia e dell'affettività, sui quali Papa Francesco insiste fortemente in questo Anno Santo della Misericordia. Domenica 25 settembre 2016 a Caltagirone, Fiat 500 Club Italia, coordinamento Caltagirone, in collaborazione con i Birbanti, organizza il quinto e ora ad uno Fiat 500. Tutti coloro che vorranno partecipare con la loro auto d'epoca, possono iscriversi fin da ora, rivolgendosi agli organizzatori dell'evento. La regione siciliana ha trasmesso il bando per l'assegnazione delle borse di studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2015-2016. La borsa di studio viene fissata nella misura minima di 51,64 euro. Lo rende noto l'amministrazione comunale con un avviso sottoscritto dal sindaco Gino Ioppolo e dall'assessore della pubblica istruzione, concetta Mancuso. Al beneficio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. L'istanza di partecipazione va presentata entro il prossimo 30 settembre nell'istituto scolastico di appartenenza. Se la domanda sarà inoltrata per mezzo del servizio postale, farà fede la data del tempo postale. Le istanze devono essere redatte su apposito stampato disponibile presso le scuole di appartenenza. Il servizio pubblica istruzione è l'URP del Comune. Per informazioni, gli utenti possono rivolgersi al servizio pubblica istruzione in via Emanuele Taranto, 14, telefono 0933 41 84 o all'ufficio relazioni col pubblico a Palazzo Municipale, telefono 0933 41 36 4. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.